Un cittadino reacheno di 27 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Udine in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP per atti persecutori aggravati a danno della sua ex, una cittadina italiana. I due avevano iniziato una relazione sentimentale nel 2022 e da subito il ragazzo aveva manifestato nei confronti di lei atteggiamenti di possesso e controllo oppressivo, impedendole di frequentare altre conoscenze e considerandola come di sua proprietà. Interrotta la relazione, l'uomo, nelle ultime settimane, ha iniziato a perseguitarla, tendendola sotto casa, strattonandola, offendendola e sputandola addosso durante il giorno. Anche in presenza di altri passanti intimoriti. Appreso che la donna aveva sporto denuncia in questura, per quanto patito, lo scorso 15 novembre l'ha bloccata per strada, l'ha strattonata con violenza, allontanandosi solo grazie all'intervento di un corriere espresso che transitava sul posto e che ha difeso la donna. Oggi l'arresto. Le frecce tricolori sono parte del cuore pulsante del Friuli Venezia Giulia, oltre che un orgoglio nazionale. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, accogliendo nel palazzo della regione il comandante della PAN, tenente colonnello Stefano Witt, e il suo successore, tenente colonnello Massimiliano Salvatore, che assumerà il comando delle frecce tricolori alla fine del mese. A nome della regione e di tutti i suoi cittadini, voglio quindi ringraziare il comandante della pattuglia acrobatica nazionale Stefano Witt per la dedizione, la professionalità e l'impegno con cui ha svolto il proprio incarico, ha sottolineato il governatore, anche in situazioni molto difficili. Partendo da un solido rapporto d'affetto con la comunità locale, la collaborazione tra la regione e la PAN si è rafforzata e sono state sviluppate collaborazioni che hanno permesso di aumentare la conoscenza della nostra regione e delle sue bellezze in Italia e all'estero. Chi era Giacomo Casanova? Un avventuriero intraprendente, un letterato generoso, un diplomatico accorto, un baro temibile, un viaggiatore instancabile e un grande amante delle donne. A quasi 300 anni dalla nascita, la storia di una vita straordinaria in un libro, Casanova, uscito nei giorni scorsi per la terza, che insieme è la biografia di uno dei veneziani più noti al mondo e un affresco originale dell'Europa del Settecento. Lo firma Alessandro Marzomagno e sarà al centro dell'appuntamento di Pordenone Legge Fuori Città, in programma giovedì 23 novembre alle 21 nella sala consigliare del Centro Culturale Aldomoro di Cordenons, in dialogo con l'autore e il direttore artistico di Pordenone Legge Gian Mario Villalta. L'incontro è ingresso libero fino ad esaurimento posti. È suggerita comunque la prenotazione iscrivendosi attraverso il sito pordenonelegge.it cliccando alla voce My PN Legge, info 0434 15 70 300, email segreteria at pordenonelegge.it di Pordenone Legge.it.it